Questi sono i 10 carri armati più forti al mondo che hanno una corazza resistente e una tecnologia sofisticata. Essi sono impiegati per proteggere zone importanti e fanno parte dei migliori eserciti del pianeta. Si tratta di carri armati di ultima generazione che stupiscono per le loro capacità. Siete pronti a scoprire quali sono? Allora partiamo! Iniziamo la nostra classifica con il carro armato italiano Ariete C1 entrato in servizio nel 1995. Questo mezzo è dotato di un cannone da 120 mm, di un sistema di controllo del tiro computerizzato e di una corazza composita che gli conferisce una buona resistenza agli attacchi nemici. L'Ariete C1 può raggiungere una velocità massima di circa 70 km orari e ha una portata operativa di 600 km. Il carro armato italiano ha partecipato a diverse missioni internazionali come in Iraq e in Libano, dimostrando la sua affidabilità e la sua efficacia. Il nono posto della nostra classifica spetta al carro armato francese Leclerc, entrato in servizio nel 1992. Questo mezzo è considerato uno dei più avanzati al mondo dal punto di vista tecnologico grazie al suo sistema di gestione integrata, al suo sistema di protezione attiva e al suo sistema di caricamento automatico. Il Leclerc ha un cannone da 120 mm che può sparare proiettili perforanti e missili anticarro. Il carro armato francese può raggiungere una velocità massima di circa 71 km orari e ha una portata operativa di 550 km. Il Leclerc ha partecipato a diverse operazioni militari, come in Kosovo, in Afghanistan e in Mali, dove ha dimostrato la sua superiorità sul campo. L'ottavo posto della nostra classifica è occupato dal carro armato israeliano Merkava MK-4, entrato in servizio nel 2004. Questo mezzo è progettato per garantire la massima protezione all'equipaggio grazie alla sua corazza modulare, al suo sistema di difesa attiva e al suo sistema di soppressione degli incendi. Il Merkava MK-4 ha un cannone da 120 mm che può sparare proiettili ad alta penetrazione e missili guidati. Il carro armato israeliano può raggiungere una velocità massima di circa 64 km orari e ha una portata operativa di 500 km. Il Merkava MK-4 ha partecipato a diverse operazioni militari, come in Libano e nella striscia di Gaza, dove ha affrontato vari tipi di minacce. Il settimo posto della nostra classifica è detenuto dal carro armato sudcoreano Kata-2 Black Panther, entrato in servizio nel 2014. Questo mezzo è considerato uno dei più moderni e sofisticati al mondo, grazie al suo sistema di controllo del tiro elettronico, al suo sistema di sospensione attiva e al suo sistema di navigazione inerziale. Il Kata-2 Black Panther ha un cannone da 120 m che può sparare proiettili a energia cinetica e missili a guida laser. Il carro armato sudcoreano può raggiungere una velocità massima di circa 70 km orari e ha una portata operativa di 450 km. Il Kata-2 Black Panther è stato progettato per affrontare le sfide della penisola coreana, dove deve fronteggiare il potenziale nemico del nord. Il sesto posto della nostra classifica è assegnato al carro armato cinese Type 99, entrato in servizio nel 2001. Questo mezzo è il risultato di un programma di modernizzazione dei carri armati cinesi che ha incorporato elementi di design e tecnologia russi, tedeschi e occidentali. Il Type 99 ha un cannone da 125 mm che può sparare proiettili perforanti e missili anticarro. Il carro armato cinese ha anche un sistema di protezione attiva, un sistema di controllo del tiro e un sistema di visione termica. Il Type 99 può raggiungere una velocità massima di circa 80 km orari e ha una portata operativa di 600 km. Il Type 99 è il principale carro armato dell'esercito cinese, che conta oltre 2000 esemplari in servizio. Il quinto posto della nostra classifica è attribuito al carro armato britannico Challenger 2, entrato in servizio nel 1998. Questo mezzo è famoso per la sua elevata resistenza agli attacchi nemici, grazie alla sua corazza composita Chobam, che gli ha permesso di sopravvivere a colpi diretti di RPG e missili anticarro. Il Challenger 2 ha un cannone da 120 mm, che può sparare proiettili ad alta esplosività e a energia cinetica. Il carro armato britannico ha anche un sistema di controllo del tiro, un sistema di visione notturna e un sistema di comunicazione satellitare. Il Challenger 2 può raggiungere una velocità massima di circa 59 km orari e ha una portata operativa di 450 km. Il Challenger 2 ha partecipato a diverse operazioni militari, come in Iraq e in Afghanistan, dove ha dimostrato la sua efficacia e la sua robustezza. Il quarto posto della nostra classifica è riservato al carro armato russo T14 Armata, entrato in servizio nel 2015. Questo mezzo è considerato il primo carro armato di quarta generazione al mondo, grazie al suo design rivoluzionario e alla sua tecnologia innovativa. Il T14 Armata ha un cannone da 125 mm che può sparare proiettili perforanti, cumulativi e termobarici. Il carro armato russo ha anche un sistema di protezione attiva, un sistema di controllo del tiro e un sistema di visione panoramica. Il T14 Armata ha la particolarità di avere una torretta completamente automatizzata e un abitacolo blindato per l'equipaggio. Il T14 Armata può raggiungere una velocità massima di circa 90 km orari e ha una portata operativa di 500 km. Il T14 Armata è il carro armato più avanzato dell'esercito russo, che prevede di acquisire oltre 2.000 esemplari entro il 2025. Il terzo posto della nostra classifica è occupato dal carro armato statunitense M1A2 Abrams, entrato in servizio nel 1992. Questo mezzo è uno dei più famosi e diffusi al mondo, grazie alla sua potenza di fuoco, alla sua mobilità e alla sua affidabilità. Il M1A2 Abrams ha un cannone da 120 mm, che può sparare proiettili perforanti e a energia cinetica. Il carro armato statunitense ha anche un sistema di protezione attiva, un sistema di controllo, del tiro e un sistema di visione termica. Il M1A2 Abrams può raggiungere una velocità massima di circa 67 km orari e ha una portata operativa di 426 km. Il M1A2 Abrams ha partecipato a diverse operazioni militari, come in Iraq e in Kuwait, dove ha dominato i carri armati nemici. Il secondo posto della nostra classifica è assegnato al carro armato tedesco Leopard 2 A7 Plus, entrato in servizio nel 2014. Questo mezzo è il risultato di un programma di miglioramento del Leopard 2, che ha aumentato le sue capacità di combattimento in vari scenari. Il Leopard 2 A7 Plus ha un cannone da 120 mm, che può sparare proiettili perforanti e a energia cinetica. Il carro armato tedesco ha anche un sistema di protezione attiva, un sistema di controllo del tiro e un sistema di visione termica. Il Leopard 2 A7 Plus ha la particolarità di avere un sistema di climatizzazione, un sistema di alimentazione ausiliario e un sistema di protezione NBC. Il Leopard 2 A7 Plus può raggiungere una velocità massima di circa 68 km orari. Il primo posto della nostra classifica è conquistato dal carro armato turco Altai, entrato in servizio nel 2020. Questo mezzo è il frutto di un progetto nazionale di sviluppo di un carro armato di ultima generazione, che ha beneficiato della collaborazione con aziende tedesche e sudcoreane. L'Altai ha un cannone da 120 mm, che può sparare proiettili perforanti e a energia cinetica. Il carro armato turco ha anche un sistema di protezione attiva, un sistema di controllo del tiro e un sistema di visione termica. L'Altai ha la particolarità di avere un motore diesel di 1500 cavalli, che gli conferisce una grande potenza e una grande autonomia. L'Altai può raggiungere una velocità massima di circa 70 km orari e ha una portata operativa di 500 km. L'Altai è il carro armato più moderno e potente dell'esercito turco, che prevede di acquisire oltre 1000 esemplari entro il 2025. Questo è tutto per il nostro video di oggi. Speriamo che vi sia piaciuto e che abbiate scoperto qualcosa di nuovo sui carri armati più potenti della storia. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al nostro canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!